L'ho detto perché ero come con Frustalupi, è un modo nostro, anche un po' toscano di dire, sembra che lo facciamo apposta di colpire loro, tiravamo da tutte le parti e ci entravamo uno di loro. E quando mi sa che era sull'1-1, loro hanno fatto un tiro e invece è passato da fuori area fra 20 gambe e è andato nell'angolino. È come dire, aspettiamo, cerchiamo invece di prendere la porta e tiriamo addosso a loro, ma era un continuo, se lei ha visto Hernanes, ha tirato il cambiasso e rimpallava. È un'espressione, volevo dire, è un momento così proprio, che qualsiasi cosa tu fai la palla ti ritorna lì, non svirgola mai se una spalla entra dentro l'aria e ti viene sul piede. E questo era proprio perché la avvolgevamo l'avversario, le tentavamo tutte e pigliavamo sempre uno di loro, perché l'unica cosa che devi fare in quei casi è tirare in porto o crossare. E si centrava sempre uno di loro, sembra che lo facciamo apposta, ma nel senso positivo, era un rammarico del momento, anzi ci mancherebbe.